Siamo partiti subito abbastanza bene perché siamo entrati 3-4 volte dentro l'area dove potevamo sfruttarla meglio e questo non è stato. Mi sono reso conto che davanti c'è una squadra forte. Comunque noi non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite recentemente di quelle che abbiamo fatto recentemente a prescindere dall'avversale, le abbiamo fatte sicuramente in maniera migliore. Grande partite le avvicinate, abbiamo consumato tanto e ottenuto o meno nella partita con la Juve Stabia, ma siamo arrivati e oggi mi sono reso conto che dall'altra parte è una squadra solida, forte, tanti giocatori con tanti campionati di Serie B, sanno stati tutti in campo, i giocatori che hanno fatto la C dell'Avellino hanno vinto campionati importanti e quindi oggi loro ho visto una squadra forte che ha approfittato di tutti i nostri metri, un pochino che gli abbiamo concesso rispetto alle nostre pressioni che di solito facciamo. Abbiamo fatto un po' più difficoltà a trovare le punte che nelle nostre ultime partite le avevamo trovate con molta più frequenza, giocavano un po' più da reparto, hanno fatto fatica e dall'altra parte ci sono giocatori importanti da Serie B perché Rigione e Cione che insomma hanno il curriculum che parla chiaro, hanno trovato fisicità, abbiamo avuto delle buone palle e gol anche noi, l'hanno avuto chiaramente anche loro più di una e quindi è stata veramente una partita difficile. Noi non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite e l'Avellino ha approfittato di questo grazie anche la loro solidità, qualità e esperienza.